I medici di base sono pronti a partire, infatti dal prossimo fine settimana inizieranno le vaccinazioni a domicilio per gli anziani con più di 80 anni non deambulanti. Martedì sera in videoconferenza si sono confrontati circa 100 medici del distritto di Pesaro, dove si registra un'adesione più bassa che si aggira a turno al 60%. Domani poi altra riunione con quelli di Urbino, dove al momento ha aderito l'80-90% dei medici di famiglia, il 70% invece nel distritto di Fano. A spiegarci le modalità della vaccinazione Dario Bartolucci, segretario provinciale della FING, la federazione italiana dei medici di medicina generale. Ho stilato una mia lista che non coincide con la lista che mi è stata mandata dalla regione, anche perché per due motivi, uno perché sono pochi, sono solamente sei, e la seconda cosa è che tre di questi sei possono venire tranquillamente in ambulatorio con le proprie gambe. I pazienti, prosegue il dottore, non dovranno prenotarsi sul sito delle poste, ma verranno contattati direttamente dai medici di base e le somministrazioni verranno effettuate al di fuori dell'orario di ambulatorio. Io per esempio sabato comincerò a fare le vaccinazioni a questi ultrottantenni non ambulabili, faccio chiamare dalla segretaria, li faccio avvisare se chiaramente se lo vogliono fare e poi mi faccio tutto un percorso, devo vaccinare 11 persone, quindi mi faccio tutto un percorso preordinato per andare casa per casa a fare queste vaccinazioni. Poi torno e inserisco tutti i dati sul portale. Martedì inoltre è stata anche l'occasione per illustrare una miniguida. Il referente del CUP Stefano De Angeli sa spiegato le modulistiche da compilare e l'inserimento dei dati sul sito delle poste. Sarà il medico stesso poi che in base allo stato di salute e alle eventuali patologie dei pazienti sceglierà se somministrare Moderna o AstraZeneca. Siccome le dosi una volta aperto il flacone sono 11 e sono da fare in 6 ore, quindi andrebbero o si dividono un flacone in due colleghi, quindi uno ne fa 5 e l'altro ne fa 6, oppure cercare di farli in maniera veloce in modo tale che una volta fatti si ritorna in ambulatorio e si va nel sito delle poste e si inseriscono tutti i dati che sono stati raccolti al domicilio. Bartolucci infine ha spiegato le difficoltà della categoria anche se non si percepisce dall'esterno. Ha detto siamo allo stremo dai tamponi ai vaccini influenzali, dalle chiamate alle visite l'attività non si ferma mai. Con il telefono aperto 24 ore su 24 anche il sabato alla domenica capisco che molti colleghi siano arrivati al burnout e quindi anche una piccola goccia fa traboccare il vaso. Però mi sento di dire che questo è un passo importante per far vedere che i medici di medicina generale ci sono e sono ai fianco dei loro pazienti.